Vi volevamo far vedere, per riprendere, il laboratorio, così che dopo tutto quello che ci siamo detti magari, questa è una macchina, questa è la coordonatrice per piegare le pagine, questo è un girello per la stampa della stoffa, questa è la macchina, la semiautomatica che stampa il 6294, la taglierina e questa è la vasca dove si fa l'incisione e lo sviluppo dei telai. Ecco, una cosa che forse non abbiamo detto è che durante il lavoro poi di stampa, di allestimento, insomma tutte le fasi della lavorazione hanno un grado di ripetitività molto alto che fa parte proprio dell'apprendere a fare il gesto necessario, non sbrodollato ma quello giusto, ti permette di essere veloce, preciso e di portare avanti il lavoro. Ci sono molti gesti che vengono ripetuti sia durante la fase della stampa che poi durante la fase di allestimento e bisogna insomma riuscire a trovare la chiave che mette insieme la propria gestualità e la conoscenza della macchina ti permette di arrivare a fare le cose fatte per bene. Dico che bisogna conoscere i propri strumenti perché ogni strumento che voi avete visto lì nelle foto ha delle caratteristiche. Abbiamo imparato per esempio che mettere il foglio dal lato destro della coordonatrice proprio preciso fa tagliare il foglio e non lo fa piegare e quindi lì c'è una conoscenza dello strumento che tu hai a disposizione che è arrivata. Abbiamo capito che per mettere al registro, ovvero posizionare la carta sempre nella stessa giusta posizione in maniera precisa perché poi se no il secondo colore non va messo per bene e così il terzo colore non si ritrova nella giusta posizione, significa anche imparare a capire il proprio corpo che tipo di gestualità deve fare. A me per esempio se devo mettere il registro qui a sinistra devo avere i fogli da prendere qui a sinistra perché la mia gestualità sia la memoria della mia gestualità sia quella che nel frattempo prendo nel laboratorio mi fa fare un certo tipo di movimento. E se io non sto nella giusta posizione faccio dei movimenti sbagliati che non mi fanno essere né precisa né veloce perché poi è tutto collegato cioè la mia velocità serve anche a far mantenere un ritmo alla persona che poi deve stampare e passare la racla quindi è tutto un circolo che deve essere più fluido possibile. E la precisione poi del lavoro. E la precisione del lavoro. Anche nella taglierina, la nostra taglierina che è una taglierina un po' vecchiotta e certi tipi di carta e li taglia in una certa maniera quindi anche la conoscenza del materiale che poi noi andiamo a toccare, a prendere, a modificare, a tagliare, a stampare varia da materiale a materiale. La carta può essere di misura più grande e quindi hai bisogno di prenderla in un certo modo e impari a prenderla in un certo modo per quel formato. Se è più leggera o se ha un formato più piccolo la prendi in un'altra maniera e quindi sono sempre corpo, strumento e il materiale che nel frattempo andiamo ad utilizzare che devono incontrarsi, insomma, in questa fluidità. Questo per esempio è quando abbiamo stampato Rettigre. Questo qui che vedete è un telaio di un colore ed è il momento dello sviluppo del telaio. Quindi il telaio è stato inciso, questo è stato messo in macchina e c'è la stampa del primo colore. Ed è qui che avviene quello che dice Chiara del movimento perché c'è uno che dà il comando di stampa ma c'è quello che mette il registro, c'è quello che toglie, che controlla la stampa. C'è un rapporto fortissimo tra occhio, mano e testa. Questo rapporto si rinsalda moltissimo nel lavoro artigianale, che chiaramente poi dà dei segnali specifici anche proprio alla propria anima, cioè chiaramente non è disgiunto ma è tutto unito. Ed è interessante quello che diceva Chiara, che tu devi conoscere le caratteristiche del tuo corpo, della tua gestualità per metterle in sintonia con quelle della macchina, con le caratteristiche della macchina, perché il lavoro si è fatto velocemente, ma precisamente è che tu riesca a gestire la ripetizione del gesto. Perché tu fai un gesto migliaia di volte, non decine di volte, ma migliaia di volte. Le battute di stampa di Rettigre sono qualcosa di 14.000 battute di stampa, cioè per 14.000 volte noi abbiamo ripetuto la stessa operazione. E così succede quando devi rifilare, quando devi cucire, quando devi mettere in macchina, quando devi contare i fogli, eccetera. Ma questo fa parte dell'apprendimento e dell'esercizio del mestiere. Non è una cosa noiosa, ma è il mestiere. Ed è lì che apprendi fondamentalmente. E c'è tutto un enorme rapporto, per noi interessantissimo, sull'autoeducazione, perché tutta autoeducazione ha la concentrazione e ha la sintonia della gestualità, e della cooperazione in gruppo. Perché facciamo operazioni diverse, che vengono prima o dopo quella dell'uno e dell'altro. Se io faccio bene un'operazione, metto nelle condizioni chi viene dopo di me di continuare a fare bene quella cosa. Ma se io ho tagliato male la carta, perché l'ho fatto distrattamente, senza cura necessaria, farò fare una stampa sbagliata a chi viene dopo e manderò all'area il lavoro di tutti. Quindi ci deve essere, cioè, veramente quella che si chiama cooperazione nel lavoro in un laboratorio artigianale è essenziale. Uno per arrivare al risultato, due per non buttare soldi e tempo, perché poi buttare carta, colori, eccetera, giornate di lavoro, non è solo un discorso etico, è un discorso economico. Vabbè, questo è un po' per farvi entrare nel laboratorio, anche se non abbiamo immagini. Queste sono le foto delle taniche di colore in preparazione. Va bene. Facciamo, ok, chiudiamo questa cosa. Vi facciamo vedere adesso queste cartelle che abbiamo preparato. Cominciamo da Agostino. Così, perché non sapevamo se saltarla questa parte e passare alla proposta e al laboratorio, però visto che ci sembra che le domande che avete fatto sono anche molto specifiche rispetto a come si illustra per, eccetera, qui vi vogliamo far vedere una serie di passaggi ipermanuali nella preparazione di un'immagine per la serigrafia, fino invece al lavoro di Mara, che invece è stato semplicemente un disegnare, scansionare e lavorare su Photoshop per canali, per creare la separazione dei colori e delle pellicole. Perché, allora, le pellicole in serigrafia le possiamo fare in tre modi. li possiamo fare o ritagliando la carta, o lavorando con dell'acrilico nero coprente su delle pellicole lucide, trasparenti, oppure lavorando al computer e passando per la foto unità. Cioè, per la stampa proprio, la stampa professionale di pellicole. Quando io parlo di pellicole, intendo le matrici che incidono i telai. E adesso le vedete. Si può? Bravo, sì. Elisa Talentino di Print About Me spesso lavora con la gelatina a disegnare direttamente sul telaio, addirittura. è pre-istorica come cosa, però è interessantissima per questo. Se dipingi con la gelatina direttamente sul telaio, sì. Cioè, tu devi coprire quello che non vuoi che venga inciso. Invece, questi lavori che vi stiamo per presentare fanno parte appunto del laboratorio che abbiamo fatto con illustratori diversi per la presentazione del rettigre, che abbiamo fatto in una galleria che si chiama Wunderkammern a Roma, ed siamo proprio vicini, insomma, con cui abbiamo cercato una collaborazione. Noi abbiamo proposto a 9-10 illustratori, disegnatori, di partecipare a questo laboratorio e di lavorare direttamente su pellicola con l'acrilico. La gran parte, se non tutti, di queste persone non avevano mai lavorato in serigrafia. L'unico, ma appunto, forse che la conosceva era proprio Agostino Iacurci, che è uno street artist, anche molto ormai affermato, che, appunto, per vicinanza anche alla tecnica dello stencil, che di solito si usa per fare i graffiti, insomma, il lavoro dei murales, così, riusciva ad avere un'immaginazione forse un po' più precisa. Lui, infatti, ha lavorato con degli stencil. Cioè, si è fatto, ecco, ha fatto, ha lavorato sulla sua bozza al computer e poi ha fatto dei disegni sul formato di carta e si è ritagliato poi le mascherine che gli potevano, insomma, per il suo lavoro. Lo vedono qua. Ecco, infatti, e lui ha lavorato con dei rulli. Ha lavorato in maniera anche molto veloce. E questa è la produzione delle sue pellicole. Adesso sono state messe l'una sull'altra, perché, ovviamente, una pellicola deve andare a registro sull'altra, perché il risultato della stampa è questo. Lui non ha lavorato con trasparenze, ma per campiture di colore. Quindi possiamo anche staccare. Ogni pellicola ha un suo telaio. L'incisione, ovviamente, anche in questo, deve tener conto del fatto che, pur essendo un acrilico nero, guardandolo contro luce, qui vediamo che ci sono dei grigi. E' la texture del rullo. Esatto, è la texture del rullo. Però, in ogni caso, comunque, laddove il nero non è pieno, ci sono dei grigi. Il che significa che, incidendo la pellicola, bisogna tener conto di questa cosa, che, appunto, quindi ha un tempo di incisione, la gelatina deve essere passata in un certo modo, e quindi tutta una serie di accorgimenti. Perché forse noi stiamo dando per scontato che sapete com'è un'incisione, uno sviluppo del... Allora, c'è un passaggio fondamentale prima. Allora, la siligrafia come funziona? C'è un telaio, come l'avete visto. C'è una gelatina fotosensibile, che è un prodotto che viene passato, avete visto nel video, c'è Mamun che passa con quel vaschietto e stende questo strato di gelatina, che è una gelatina fotosensibile. Per cui, in origine, il telaio, è come l'avete visto nel kit, dove c'è la tela di nylon, viene passata questa gelatina, viene essiccata al forno. Dopodiché, perché noi abbiamo bisogno di matrici, pellicole, di nero coprente? Perché questa pellicola qua, la prima pellicola del primo colore, viene posizionata sopra il telaio e viene messa in una macchina che si chiama bromografo, che lavora con delle lampade UV. Le lampade UV che cosa fanno? Si accendono in un tempo di incisione determinato, da noi, da chi deve incidere, può essere un minuto, un minuto e mezzo, due minuti. Quindi, la luce batte contro la gelatina e catalizza, incide, la gelatina che vede. La gelatina che è coperta dal nero della matrice non viene toccata dalla luce e non viene catalizzata chimicamente. Per questo che poi avete visto nelle immagini di Rettigre che il telaio viene messo in una vasca di sviluppo con l'acqua, perché la gelatina che non è stata catalizzata dalla luce viene sviluppata dall'acqua, ovvero cade dal telaio e mi ripropone esattamente l'immagine che io ho fatto, al positivo. Dove passerà il colore? Per esempio di questo, questa parte qui, questa parte qui sono quelle che sono state incise. Hanno il nero coprente. e infatti qua è aperto. E noi abbiamo scelto, lui ha scelto di metterci il giallo. Ma queste sono maglie del telaio che non sono state toccate dalla luce e che quindi poi sono rimaste libere per far passare il colore. Non sono state toccate dalla luce perché questo era un nero coprente. Quindi rimangono aperte e lì passerà il colore. Su tutto il resto o invece c'è la gelatina e il colore non passa. Qui nella foto vedete Agostino che ritocca la pellicola. La ritocca con un taglierino, perché poi appunto puoi lavorare in questo modo, puoi lavorare con i rulli, puoi lavorare con le punte a secco, con delle punte di legno, puoi lavorare a scratch a togliere, puoi lavorare con i pennelli, vari tipi di pennelli, eccetera, eccetera. Puoi veramente, ed è molto interessante lavorarci per chi fa illustrazione, per chi disegna, perché la matericità di questo tipo di intervento sulla pellicola, con l'acrilico e vari strumenti ti suggeriscono poi, no? Anche dove andare e come... È un altro modo, cioè se lui avesse fatto questo lavoro soltanto sul computer e fosse andato in stampa diciamo industriale della pellicola, il risultato non sarebbe poi quello, sarebbe chiaramente diverso. Qui per esempio c'è il rullo a tutto è bello carico di colore, ed è venuto un nero bello coprente. Invece in quest'altra parte la rullata aveva meno colore e quindi ha lasciato degli spazi bianchi dove è rimasta appunto la gelatina e non ha fatto passare il colore. Forse detto questo è anche sufficiente passiamo a Mara perché poi gli altri sono un po' ripetitivi su questa... Sì, sì, vede semplicemente la... Vabbè, le differenze e le peculiarità di ognuno che hanno preferito appunto lavorare o col pennello oppure quello che vedete rosso è un pennarello serigrafico quindi è rosso ma è coprente e quindi ognuno di loro ha lavorato o a rullo o appunto come diceva Marco andando a togliere a rifinire a fare anche delle cose molto minuziose e molto sottili anche Simone Rè ha lavorato in questo modo sperimentando anche del... grattando la pellicola con la carta abrasiva con materiali diversi e quindi proprio per sperimentare il tipo di resa che si può ottenere da una superficie di acrilico insomma e le possibilità sono veramente tante Qui nelle immagini che potete vedere è il lavoro di Alicia Baladan questo era il bozzetto che lei si era portata e poi piano piano ha cominciato a ricostruirlo sulle pellicole anche qui vedete l'uso dei rulli delle punte pennello e piano piano si sta creando l'immagine e adesso quello che si può aggiungere di questo percorso è che loro destrutturando l'immagine e ricomponendola per due colori senza averlo mai fatto quello che è sempre successo è che allora è sempre se tu fai un'immagine per due colori è sempre il secondo colore che ti dà la verità della tua immagine cioè che definisce quello che hai fatto crea le sovrapposizioni e quindi l'altro colore altre forme eccetera il primo colore non ti rendi conto se hai ragionato nel verso giusto se funzionerà quell'immagine è sempre al secondo terzo colore l'ultimo colore che ti ridefinisce tutto allora con loro era veramente e molto spesso ci siamo tornati a rincidere e a rifare perché il secondo colore non funzionava non dava l'effetto che si era pensato perché non c'è questo allenamento a immaginare l'immagine in questo modo invece questo è un lavoro bambina leone pdf invece questo è un altro modo che è un modo che si utilizza spessissimo perché con Mara Cerri abbiamo lavorato a distanza e quindi non poteva fare questo lavoro ma ci doveva inviare dei file e quindi lei aveva fatto una serie di bozzetti di prove di disegni scusate e quindi Tade come vedete lei si è concentrata su questa immagine della bambina leone e ha fatto la scansione tramite computer vai avanti infatti si vedono i segni che lei aveva diviso e ogni colore è diventato un livello del file di photoshop ogni livello è stato poi comunque rielaborato graficamente questo è con il secondo colore questo è solo il terzo e poi questi sono tutti e tre insieme quindi i passaggi sono questi primo colore secondo colore sul primo terzo colore e il risultato è questo quando sono tutti insieme dal vivo è questa queste sono le pellicole che però sono state fatte appunto con la foto unità come diceva Marco prima che sono quelle che noi utilizziamo per i libri necessariamente passiamo da lì si può fare anche un libro fatto di pellicole dal vivo anzi sarebbe però è un altro tipo di lavoro cioè l'illustratore sta in in laboratorio a a lavorare va bene io mi fermerei mi fermerei qui e cosa laboratori laboratori non ci abbiamo però no va bene allora voglio dire che l'ultima cosa è che quello che hanno fatto loro praticamente è il contrario di quello che andremo a fare noi allora hanno lavorato a disegnare e a fare appunto la cosa il disegno sulla sulla pellicola noi andremo a togliere dal dal foglio e sarà la stessa cosa arriveremo più o meno allo stesso risultato però in un altro in un altro modo noi lavoreremo con degli stencil più o meno è possibile in maniera artigianale cioè fatta in casa simulare in qualche modo l'effetto che si avrebbe dipingendo cioè incidendo il telaio però avendo appunto il segno quasi del ruolo o qualcosa del genere è impossibile o ci sono dei modi non so se è chiara la domanda con il ritaglio della carta? sì o simulando in qualche modo non so non si può andare ad incidere tratto per tracere la carta è da pazzi però avere che so simulare l'effetto del passaggio del rullo non so mi viene così come è possibile farla bruciandola non lo so ci sono dei sono stati fatti degli esperimenti non lo so degli esperimenti a riguardo non lo so beh lo possiamo provare oggi no facendo una grande sperimentazione tu puoi sperimentare appunto inserendo che ne so delle stoffe con trame molto larghe cioè non avere l'effetto del rullo però avere delle altre cose che ti consentono di avere degli effetti particolari con il ritaglio della carta tu hai un effetto abbastanza netto anche se molto particolareggiato quindi proprio il rullo con il ritaglio no però hai in ogni caso un livello di definizione molto alto e quindi poi insomma dipende da quello che vuoi fare è tutta sperimentazione che insomma si 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 può fare è chiaro che avere una retinatura come quella del rullo che proprio vedi ma infatti c'è questo è l'invito insomma ad essere quanto più liberi di sperimentare possibile ovviamente in un tempo che ci permetta di concludere il lavoro ecco nel senso che questo che avete visto è un altro tipo di lavoro quello che faremo oggi e domani è un altro tipo con un'altra tecnica che ha delle sue caratteristiche come questa ha delle caratteristiche cioè il ritaglio della carta cioè lasciatevi anche suggerire da quello che la tecnica vi può dire nella realizzazione dell'immagine perché con la carta si possono fare cose che con l'acrilico, rullo eccetera non si possono fare allora utilizzando in questi due giorni questo tipo di tecnica cerchiamo di capire che cosa questa ci suggerisce per arrivare a certi risultati sicuramente potete lavorare ed è l'invito che vi facciamo a giocare sui pieni sui vuoti sul positivo sul negativo e sulla sovrapposizione dei colori e quindi avrete il terzo colore quello sicuramente è una cosa che noi preparando il laboratorio lo abbiamo pensato e abbiamo creato le condizioni perché questo possa succedere i colori che utilizzeremo sono trasparenti ne utilizzerete due e quindi si potrà avere il terzo colore però la tecnica è specifica e ha le sue potenzialità e ha i suoi limiti allora abbiamo circa un'oretta prima della pausa pranzo io passerei alla presentazione del laboratorio allora il laboratorio ha come tema anche suggerito dall'organizzazione del workshop eccetera legato al cibo e abbiamo pensato e lo cominciamo a fare subito questa mattina noi abbiamo un po' cercato degli spunti letterari legati al cibo e abbiamo trovato un vi proporremo alcuni testi tratti da questo libro che peraltro poi guardatelo perché è un libro meraviglioso proprio come oggetto libro stampato tutto in caratteri mobili Mangiare di Walter Benjamin sono una serie di racconti legati al cibo suoi incontri con il cibo e poi c'è una piccola cosa di Mario Soldati tratta da quest'altro libro il suo incontro con i lamponi e poi ci sono altre altre due cose tratte da questo libro molto bello di Shanna che è Ti mangio con gli occhi e ci sono due storie una sul limone e una sulle tagliatelle fondamentalmente però l'idea e poi c'è un bellissimo un bellissimo racconto si può dire di Natale perché è il pranzo di Natale di Elsa Morante che è frutto di una corrispondenza che lei ebbe nel 71 con Goffredo in cui racconta questo pranzo di Natale di Egidio diciamo questo è il materiale che vi mettiamo a disposizione come spunto come spunto per fare che cosa? come spunto per raccontare una vostra storia di incontro con il cibo ma non dove non quello che ci piacerebbe è che come dire il protagonista come in tutte le storie che leggete è sì il cibo la pietanza il luogo dove lo si consume eccetera ma diventa lo spunto per raccontare qualcosa di vissuto qualcosa che è successo un contesto una città delle persone dei personaggi delle ritualità eccetera quindi raccontare in prima persona come ricordo come incontro ma per dirci qualcosa su qualcos'altro no? è chiaro? poi quando leggerete i testi secondo me sarà più chiaro perché i testi sono li abbiamo scelti un po' proprio pensando a questo cioè volevamo non tanto sprofondare nel ricordo autobiografico ma più che altro partire da uno spunto autobiografico cercando di diventare di fare la cronaca di qualcosa no? in questo caso essendo tutti i racconti di un'Italia che è scomparsa ci restituiscono quell'antropologia quel mondo quella cultura quel modo di stare insieme eccetera c'è il racconto di Shanna sui limoni che è che è incredibile no? pensare che c'era quel rapporto con la terra con il limone il padre che innesta una pianta dentro questo limonaia che fa dei limoni particolarmente dolci ma che non gli indicherà mai qual è e quindi i bambini dovevano andare alla ricerca di questo e non lo troveranno mai ma anche come venivano coltivati i limoni per cui venivano tenuti senza acqua per molto tempo quasi a farli morire poi improvvisamente venivano inondate le terre di acqua per giorni e giorni come se arrivasse la primavera e da questo tranello che facevano alle piante le piante germogliavano e producevano dei limoni verdi molto particolari no? per dirvene una insomma comunque questa è l'idea questi sono soltanto dei suggerimenti che vi diamo letterari di ambienti di contesti di personaggi eccetera per poi invece chiedervi a voi di diventare scrittori autori di un testo di questo tipo che sarà il testo che voi illustrerete allora no un mese ci abbiamo fino a domani e visto che lo abbiamo già fatto e ci si è riusciti ci si può riuscire anche qua allora la l'oggetto libro è questo questa è la nostra la nostra la nostra copertina abbiamo una una pagina di frontespizio noi l'abbiamo calcolata per 17 persone quindi adesso siamo di meno dobbiamo ricalcolare la foliazione però qui avete la struttura è un po' è come radici animali quindi abbiamo il vostro testo questo per esempio è il testo 1 corrispondente all'illustrazione 1 quindi qui ci sarà il vostro racconto e qui la vostra illustrazione a due colori e così e così via testo 2 e testo testo 3 ok? quindi saranno circa 3 o 4 quartini stampati bianca e volta a due colori quindi domani è fronte e retro domani è tutta una giornata di stampa e di rilegatura oggi è di scrittura e di produzione delle sì ce la possiamo fare allora quello che la cosa la cosa che sarà la cosa che sarà difficile sarà illustrare ritagliando no? sarà più difficile forse però su quello veramente vi invitiamo al gioco il gioco serio però gioco cioè non siamo in due giornate di lavoro praticamente una e mezzo l'obiettivo è quello di farvi sperimentare una tecnica e confrontarvi con un oggetto che ha delle sue regole non quello di essere pienamente soddisfatti della propria illustrazione quindi insomma gli dedicheremo almeno due orette oggi per farla e due orette per scrivere però oggi concludiamo questa parte e domani andiamo in stampa no il ritaglio adesso è oggi pomeriggio e io invece mi fermerei qua e andrei di là così ci sediamo diventando libro perché dobbiamo ognuno di voi diventa parte di un quartino quindi prendiamo le posizioni perché poi testo e immagine dovranno corrispondere quindi dobbiamo organizzarci leggiamo questi no prima leggiamo i testi poi facciamo questa cosa e poi andiamo a pranzo così voi pensate ci mangiate grazie a tutti ok allora adesso abbiamo preparato il il prototipo del libro e abbiamo letto le storie così delle piccole tracce letterarie che abbiamo portato sul tema del del cibo come dicevamo prima e adesso poi il pomeriggio quello che faremo a partire da questi spunti ogni persona racconterà scriverà un piccolo testo un piccolo racconto a partire dal suo incontro con con il cibo persone o ricordi legati a questo e e poi a partire da questo prototipo ogni persona sul proprio racconto illustrerà un'immagine a due colori quindi adesso abbiamo visto com'è la struttura del libro la copertina e le sue pagine i suoi quartini che verranno stampati bianca e volta a due colori e come nei libri di radici e animali hanno questa struttura per cui c'è il testo che verrà stampato su questo foglio di carta in verticale corrispondente alla pagina per cui a Vanessa è stata assegnata la prima pagina e a Cira la seconda e così via quindi il lavoro poi di oggi pomeriggio sarà quello appunto di scrittura e di impaginazione dei testi e poi di preparazione delle silhouette di carta per fare l'illustrazione domani invece andremo in stampa e poi rilegheremo il libro un attimo allora noi salutiamo che ci ha seguito da casa e da casa va bene no manca il microfono dov'è? non c'è il microfono no ok va bene a posto allora quindi niente appunto adesso noi vi salutiamo insomma e vi ringraziamo perché appunto sappiamo che c'è stata anche una bella partecipazione da casa e quindi insomma noi siamo ecco molto contenti salutiamo Else Edizioni per questa bellissima chiusura di Forchette di Cartone insomma siamo molto contenti di avervi qui e basta allora ci aggiorneremo poi metteremo questo è importante perché metteremo poi sulla pagina Facebook di Forchette di Cartone ma anche poi sui laboratori dal basso eccetera vi mostreremo poi il prodotto finito del nostro laboratorio ancora grazie ciao ciao